Con questo gioco. Con questo gioco imparerai i rapporti causa-effetto, coi suonali ai piedi e ai polsi, tintinnando un movimento. Non saprai certo che da una pressione dell'indice è partito un ordine e di seguito un via vai di scatole, auto, corrieri esposti al rischio, per mettere in relazione le cose, le persone. Tu stessa causa inconsapevole d'amore. Tu stessa causa inconsapevole d'amore. Quando leggerai sarai futura, avrai l'afflato dell'attacco vocale della prima lettera, avrai la bellezza della A finale, sarai la protagonista, il personaggio principale. Sarai la protagonista, il personaggio principale. Grazie. 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 Grazie.